La pandemia, da quando c'è, comunque nessuna forza politica ha rinunciato a fare campagne elettorali, diciamoci la verità, Salvini men che meno, anche perché comunque è stata inframmezzata da appuntamenti, si è andato a votare e soprattutto si andrà a votare in autunno, e quindi Salvini deve comunque, i sondaggi lo danno in leggero calo, anche se rimane un partito molto forte, molto presente nel paese, quindi questo calo, comunque c'è un calo, e quindi usa in fondo un provvedimento impopolare, Andrea, diciamoci la verità, il coprifuoco impopolare, impedire alla gente di circolare impopolare, impedire alla gente di passeggiare dopo un anno impopolare e fare così porta voti. Però rispetto a quando c'era Conte, adesso c'è Draghi, cioè c'è una persona che può piacere o non piacere, io non lo conosco Draghi, lo stimo a distanza, ma che alza il telefono e difende gli interessi dell'Italia, anche quando leggevo sul giornale un articolo molto ben informato, i nostri progetti non è che fossero prontissimi per il recovery fund, per cui uno che comunque ci tutela, innescare questa dialettica da parte di Salvini, lo capisco perché deve consolidare il suo bacino elettorale e ci sono importanti elezioni alle porte, però onestamente ho la sensazione che non venga capito chiaramente. Cosa fai? Sei Giorgetti o sei estremista con la Meloni? Hai paura della Meloni perché si sta allargando? Cioè rischia di creare confusione. In un momento in cui, d'altra parte, e chiudo, il governo si gioca tanto, perché questa scommessa sulle riaperture, dopo quello che sentiamo dall'India, dal Brasile, eccetera, insomma, io suggerirei prudenza, quindi purtroppo non resistono. Il fatto è che si va sempre a votare e alla fine la pandemia diventa terreno di scontro elettorale. Non dico con ironia, ci vorrebbe una moratoria, o almeno quando si parla di elezioni, per esempio se ne parlava rispetto alle regionali, adesso ci sono le amministrative, le comunali, alle liste, no? E si vota anche in Calabria. E si vota anche in Calabria, che è la tua regione di adozione, mettiamola così. Mettiamola così. No, però, molti, anche...